Oggi siamo tutti sommersi dalla cronaca di questa tragedia ucraina, l'aggressione russa scattata il 24 febbraio. Nel volume di Limes che esce il 10 marzo cerchiamo di dare o provare a dare un senso a quello che sta succedendo al di là della cronaca, al di là della propaganda che inevitabilmente impazza su tutti i fronti in questi giorni e in queste ore. Capire quali sono state le ragioni, tra virgolette, dell'aggressione russa all'Ucraina, cioè qual è la strategia di Putin, quali tatti che sta adottando e se funzionano. Dall'altra parte la risposta europea e americana. Capire anche se questa compattezza dell'Occidente di cui stiamo sperimentando in questi giorni la forza sia qualcosa di duraturo o se invece non vi siano delle incrinature che potrebbero essere pericolose. Infine cominciamo ad assaggiare gli effetti di questa guerra anche su noi, su noi italiani, su noi europei. Abbiamo ingaggiato contro la Russia una guerra economica dalle conseguenze, almeno nel medio periodo, potenzialmente devastanti per la Russia ma certamente anche molto serie per noi. E non dimentichiamo anche alcune prime reazioni, alcune conseguenze di carattere storico come la decisione tedesca di riarmare, investendo addirittura 100 miliardi di euro solo quest'anno per rendere lo strumento militare germanico qualcosa di meno fatuo e di meno inefficiente di quanto non sia oggi. Insomma, la Russia cambia il mondo è il titolo che abbiamo scelto per questo volume. Cerchiamo di capire quanto effettivamente stiamo cambiando, sicuramente molto e soprattutto quanto questo cambierà a noi.